Prima di ogni cosa ringrazio per il lavoro svolto il Presidente uscente Piero Marrese e tutti i consiglieri provinciali per la fiducia che hanno voluto esprimere. Rappresenterò le due province, Potenza e Matera, a fine di assicurare alle nostre comunità la rilevanza che meritano sui tavoli nazionali del Lupi e del Governo. Così Cristian Giordano, neoeletto Presidente del Lupi Basilicata, durante l'Assemblea dell'Unione Provincia Italiana di Basilicata, svoltasi nella sala consigliare provinciale di Potenza. Giordano, Presidente della provincia di Potenza dal settembre 2022 e Sindaco di Vietri di Potenza dal 2017, succede a Piero Marrese che ha ricoperto la carica dal 2019 ed è stato recentemente eletto consigliere regionale. I vicepresidenti saranno lo stesso Marrese e Giovanni Barbuzzi. Marrese ha espresso gratitudine verso l'Assemblea in questi anni, ha detto siamo riusciti a fare un ottimo lavoro e voglio ringraziare l'Assemblea per l'impegno e il lavoro svolto. Non sono stati anni facili, penso anche alla difficile periodo della pandemia Covid, ma grazie ad ognuno di voi, allo sforzo sinergico, siamo riusciti a lavorare insieme al di là di qualsiasi appartenenza politica. Giordano ha concluso con un cenno alle prossime sfide, citando il quarto rapporto di monitoraggio del Consiglio d'Europa sull'applicazione in Italia della Carta Europea dell'Autonomia Locale. Le sfide nel prossimo futuro sono tante, il rapporto raccomanda di ampliare il campo d'azione delle province, una volta reintrodotti gli organi eletti direttamente, di garantire alle province risorse finanziarie adeguate e proporzionate, ai sensi dell'articolo 9 della Carta Europea delle Autonomie Locali.